dai 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 un ritmo, dai un ritmo su e noi io ti porto via l'uomo non è dentro l'aretta? dentro l'aretta, l'aretta è qui, guarda qua, sì ma lei quella è più giovane no no, sono cinque metri, ho misurato i passi, un equi step, sono uguali le aree, le aree sono uguali vai, gioca, via veloce valla, valla, valla tanto largo, tanto largo, veloce, veloce, veloce che c'è dietro di me? vedete, vedete ragazzi, mancava l'affoggio dietro ragazzi siete scappati tutti, chi c'era dietro? vogliamo essere a scavare, a fare l'affoggio, veniamo non toccando dai dai dai, oficenta mi si ma bu.ico va bu. expresa 여자 do ha bu.ico mi si spavare la bu.ica grazie imaginile grazie mai Eee! Oh, no! Che culo ma Che infanziali Adesso attacca! L'attacca da controllare! Vieni su, vieni su! Brava! 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 Bravissima di testa! Ok, che rispida di fenomeno, è un bambino verso大家 Bravo! Vai da in basso! Fatti quattro, con tre tocchi! Tre tocchi, ragazzi! Proviamo a fare tocchi minuti! Oh! Ehi! 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 Oh! Non ti girare troppo! Non ti girare troppo! Poi bisogna migliorare nei ritmi! Veloce! Veloce! C'è l'ultimo! C'è l'ultimo! Ehi! Ehi! Non vale! Non vale! Lui era di là del centro campo! Lui era di là del centro campo! Era di là del centro campo! Era in pieno! Era in pieno! E' da te! Bravo! Veloce! L'abbiamo detto! Veloce! 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 Ci sono! Dai! 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 Bravo! Ragazzi! Mi siete visti? Mi siete visti tutti e tre? Come eravate messi? Questo è fatto apposta! Non c'è chi guardavano! Però eravate messi lì da sotto! E loro in tre qui a farsi gol! Breve! Breve! Ma cosa? Primo, basta! Buono! Ancora! Ancora! Dai! Tu lo faccia! Scarica dietro! Scarica dietro! Vabbè! Eh! Ancora! Vabbè! Vai! Vabbè! Vabbè! Arrivai! Gioni! Faccio! Bravo! 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 Vai! Vabbè! 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 Fai i due! Mettile qui su! Guarda dove sono! Mister! Dai! A occhio si vede! Che fai! Spostoli un po' qui su! Vabbè! 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 Gioca! Grazie! Vai! Vabbè! Vabbè! Anche dietro! Anche dietro! Bravo! Uno sopra! Ragazzi! Andiamo ragazzi! Quando si gioca! Se riceva la palla! Bisogna sapere a chi dà! Abbiamo già lì! Giuseppe! Oh, bella! 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 Sbaglio! Sbaglio! Ma in me stai! Carco! Pippo! Ehi! Vai! Ok, ora non ci sono più le scelte, ora non c'è il portiere. Allora ragazzi, bisogna essere tutti dietro la metà del centro campo. Allora, la partitella è sempre tre tocchi, per fare i gol è sempre di prima, bisogna essere oltre la metà campo. Allora ragazzi, la distanza è, dai. Spostalo, spostalo verso io. Il gol è sempre di prima dentro la metà campo, la rietta non c'è più. Si fa fare gol dentro la metà campo avversaria. Per fare gol gli altri compagni devono essere nella metà campo avversaria, altrimenti puoi fare quello che ti fanno. Quando si perde balla attacchiamo subito l'uomo che abbiamo davanti. Gli altri s'attaccano all'altro, non c'è un palco. Se mi stavano davanti... E' nostro, non c'è di non c'è. E' nostro, non c'è di non c'è. Giorno, non c'è di non c'è. E' sempre di non c'è. Tampone è di non c'è. Vai! Dai! Grazie a tutti.